Siamo sul set del nuovo video con un ospite speciale, set incredibile, e un ospite speciale che non viene dall'Italia, amici. Comunque questo è un altro video, quello che ho girato con Leo e Chiara è il video di un pezzo. Questo qui è un altro brano. Con due feature, chi lo sa, suspen, non sono bravo a fare la suspense, raga. Ciao Gigi! Allora, in sfilata eravamo di fianco a Nicki Minaj, che ci sventagliava col ventaglio, e adesso andiamo a cena a casa di Donatella. Indovinate un po' chi c'è? C'è la sua amata Gigi, ragazzi. Ragazzi, ho appena fatto la foto con Gigi. C'è un po' chi c'è un po' chi c'è un po' chi c'è. Ragazzi, serata pazzesca. Donatella è un mito, mi ha presentato chiunque. Donatella è la nostra spirit animal. E ci hanno fatto vedere la stanza di Gianni Versace, che è pazzesca, ragazzi. Comunque, raga, Emily Ratajkowski mi ha toccato un capezzolo. E mi ha fatto wow, e ha fatto tipo così, poi... Ehi, Gigi! Vede, il karma l'ha punito. Ieri faceva lo scemo che diceva che aveva conquistato Gigi Hadid, dopo che gliel'ho presentata io. E io ho fatto io la foto, e adesso quello che si mette... E io ho fatto io la foto che aveva contato così. Quindi...